Hanno deciso di festeggiare i 150 anni dell'unità attraversando l'Italia in bicicletta portando con loro la Costituzione. L'iniziativa è organizzata dalla FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, e a cui hanno partecipato anche quattro ciclisti baresi. Lello Sforza, Elio Cassano, Salvatore Scarasciulli e Giovanna Pepeo, che con Francesco e Angelo Venezia da Matera, Massimo Cerioni da Chiaravalle e Patrizia Marani da Correggio, sono partiti da Bari alla volta di Torino. I ciclisti affronteranno 1200 km dell'itinerario numero 6 della rete Bici Italia. Sono partiti con la sola bicicletta portandosi dietro allo stretto indispensabile senza mezzi motorizzati al seguito, seguendo la via Adriatica fino a Rimini, poi la via Emilia con tappa a Bologna e a Reggio Emilia. Una volta arrivati al Po proseguiranno lungo l'argine destro del fiume, tutto ciclabile fino a Torino. L'arrivo è previsto per la sera del 15 giugno. Il gruppo entrerà in città e il giorno seguente con altri soci della FIAB provenienti da tutta Italia. Il 16 giugno a Torino saranno consegnate al presidente Giorgio Napolitano le pergamene con le firme dei sindaci delle città capoluogo attraversate dai ciclisti. Grazie.